Taglio del nastro con Fiorella, l'inaugurazione della nuova terapia intensiva neonatale del Fatebene Fratelli, un reparto ristrutturato altamente tecnologico che consente, grazie a un collegamento video-wi-fi, di assicurare anche a distanza attraverso tablet o smartphone il contatto di genitori con i piccoli pazienti. Ho accoppiato uno smartphone che è presente sulla culla, sulla termica, sull'incopadrice del bambino, con lo smartphone del genitore e da qualsiasi punto, da casa o dalla strada, il genitore può mettersi in contatto e vedere il proprio bambino e sapere quali sono le sue condizioni. La terapia intensiva neonatale accessibile ai genitori H24 assiste ogni anno circa 600 bambini. Il suo ammodernamento è stato reso possibile anche grazie all'impegno decennale di Fiorello a favore dell'ospedale romano. Mi fa piacere essere qua, il minimo che possiamo fare noi che siamo i privilegiati della situazione è questo, quindi se non facciamo manco questo allora veramente serviamo a poco.